ciao saluto a tutti non dico buon natale perché sinceramente io questa festa non la sento più come 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 una volta ecco quando ero bambino anche ragazzino che condividevo il piacere di questa festa col papà con la mamma con la nonna come fratello così e poi le cose cambiano anche perché non avendo fatto figli non ho elaborato la cosa da un livello diverso c'è da una generazione successiva cioè non sono stato il papà dei bambini a cui trasmettere l'idea del così della famiglia quindi non io questo il concetto del natale sinceramente non lo non lo sento non non lo sento più e anzi mi dà anche un po fastidio questo livello consumistico qui siamo arrivati e questo livello di di festa che bisogna per forza rispettare onorare non lo sento io non sarà anche per il fatto che sono non credente quindi io non posso pensare a gesù a quanto ha fatto nella sua vita posso anche onorarne la nascita ci mancherebbe altro però ecco la mia il mio il mio riconoscimento si ferma lì sono onesto è inutile che dica faccio finta di essere buono natale siamo tutti più buoni no in natale sono esattamente uguale a come sono gli altri giorni o sono buono anche negli altri giorni o sono stronzo sempre ma io natale non non ho non ho una particolare predisposizione per un maggior altruismo e una maggior bontà lo so che sono così è inutile che faccia finta di di dire a che bello andiamo alla messa a me la messa non mi frega niente perché non non la sento non non credo non credo e quindi non credo in dio non credo in tutto quello che succede o che è successo da gesù in poi sono molto affezionato attaccato e rispettoso alla vita sua ma non a tutto quello che è stato è stato promosso dopo e tanto meno a quello che succede da alcuni decenni cioè questa corsa frenetica al regalo al mi dà fastidio c'è non solo non 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 ci corro dietro ma mi dà fastidio è chiaro qualche regalino l'ho fatto anch'io a diciamo a pochissime persone ma pochissime perché 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 sono persone con cui già io mi interfaccio durante durante l'anno che non hanno bisogno né di farmi il regalo natale né di ricevere il natale però qualche regalino si fa perché comunque un'occasione di di festa di festa ma non perché natale bene di festa perché così è un è un modo per per pensare o per pensarsi vicendevolmente sentivo una uno sketch di un comico che non ho mai visto in vita mia mi è piaciuto però anche se a me non non piacciono i comici che dicono le parolacce però va bene a parte questo sto qua diceva a natale si dovrebbe festeggiare la nascita di Gesù ok e invece cosa si fa ci si fa i regali l'uno con l'altro e a Gesù non si pensa più però è vero è vero e poi dove gli metti i regali li metti sotto un albero di sotto un abete che non c'entra niente con la vita di Gesù che non ma niente ma per nulla ma per niente ma poi i pacchi li metti di sotto e poi non li apri perché aspetti il giorno giusto per aprirli c'è tutta una cerimonia che è stata costruita dopo dopo Gesù ma è ovvio sto dicendo delle cose ovvie è ovvio che non andiamo in giro con i sandali come succedeva in palestina anche per questioni di clima ed è ovvio che non ci vestiamo di una tunica bianca e va bene i tempi sono cambiati però questa frenesia questa falsa frenesia io non non mi piace non la rispetto e non la promuovo quindi cari negozianti se pensate di fare business con i miei regali sbagliate nel senso che magari faccio un regalo il 3 agosto ma che ne so io non il 25 non il 24 non me ne frega niente non ho ricevuto una marea di inviti continuano a riceverli richieste come ho già detto in un altro video ma tu cosa fai natale non so tu cosa fai il 27 ah ma il 27 non è importante importante natale non lo so per te per te puoi immaginare che la gente ha abitudini che possono essere diverse dalle tue io rispetto il tuo natale per il quale non provo assolutamente nulla ma tu rispetta anche il mio non natale il mio non capodanno me ne forte niente il capodanno l'ho già detto continua mi tempestano mi tempestano di richieste ma le stesse persone che ieri mi hanno chiesto cosa fai natale e io ho detto non lo so me l'hanno richiesto stamattina cosa fai natale ma porca troia te l'ho detto ieri ieri non so non so non mi frega niente te l'ho già detto ieri il natale per me non è importante quindi non cosa fai lunedì 4 maggio ma non so ma che ne so non mi interessa eppure non c'è niente da fare insistono perché loro hanno questo in mente e tutto deve scorrere secondo degli ingranaggi che sono già preimpostati che non che non mi riguardano non rientrano nella mia vita ora qualcuno dice ma tu sei orso sei a sociale non è questione è questione che io ti rispetto se tu rispetti me ma se tu mi dai fastidio io mi allontano non ti insulto non ti dico niente non ti faccio la faccia col broncio niente però però mi costringe ad allontanarmi perché sei insistente sei pesante sei pesante io non voglio entrare nella tua vita perché non mi interessa entro nella vita di alcune persone alcune persone entrano nella mia ma decido io quali sono i modi nel senso che posso fare un'amicizia ma non è che poi io debba sentirmi in obbligo di farti il regalino di farti il pacchettino di farti perché io non lo sento non lo sento ma non è che perché tutti fanno il regalo un altro deve fare il regalo io non mi aspetto niente da nessuno te l'ho detto ho fatto qualche regalino ma cose simboliche ma va bene così non mi piace non mi piace ma tu nel momento in cui mi fai un regalo pensi cosa fai o lo fai per abitudine il fatto è questo che lo si fa per abitudine per abitudine si va alla messa per abitudine si fa il cenone per abitudine già il fatto che lo chiamate cenone quindi già mi prendete male otto noi organizziamo quella cosa il tal giorno tu ci sei no guarda non io decido un giorno per l'altro e quindi no 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 so madonna come sei ma vaffanculo ma io se io sono fatto così ma io non devo cambiare in funzione tua ma stiamo scherzando stiamo scherzando non mi interessa io non accetto inviti non prendo inviti non prendo impegni non vivo da solo se io volevo una moglie me la facevo se io volevo dei figli me li facevo se io volevo dei nipoti me li facevo non non li voglio sono una bestia sono un cane sono un mustoso sono un ipopotamo quello che vuoi ma a me non interessa non interessa e sono leale nel senso che sono onesto io non sento niente per il natale non è inutile che faccia finta di essere felice o di essere felice a capodanno a carnevale sono tutte date occasioni che per me sono ininfluenti per la mia vita e io non faccio quello che fate voi quello che fanno tutti non mi interessa mi estraneo in questo modo a me va bene a me va bene io sono felice di farmi le mie cose le mie ricerche sto studiando tantissimo in questo periodo incontro delle persone faccio amicizia esco con questo esco con questa se voglio approfondisco l'aeroporto se non voglio non lo approfondisco ma senza l'obbligo potrei frequentare di più una persona potrei frequentare di meno senza l'obbligo senza l'abitudine non me ne frega niente di cosa tu fai a natale di cosa tu fai a capodanno come passi la vigilia ma non me ne frega niente è inutile che io faccia finta che mi sforzi di fare finta di avere dei sentimenti che non ho sono bestia ok chiamami come vuoi il giorno di natale per me è un giorno come tutti gli altri se non potrei anche avere un pensiero per commemorare la nascita di Gesù che poi sappiamo benissimo che il 25 dicembre è una convenzione comunque va bene non ha importanza io posso pensare a Gesù e rispettarlo il 25, il 26, il 29, il 42 va bene va bene ognuno ha i suoi sentimenti insindacabili ok e io non vado a prendermi dei giudizi non vado a dare dei giudizi su quello che fa Tizio che fa Caia non sentitevi in obbligo di fare così ok se proprio è una convenzione ci si dice auguri va bene ok tu sei contento sei felice se ti dico auguri auguri ma sono gli stessi auguri che ti fa il cinese al ristorante auguri ma che cazzo mi dice auguri che tu hai un'altra religione che cazzo ne sai tu se io voglio gli auguri o no ma per carità è una forma di gentilezza di carineria auguri auguri a tutti Natale auguri te lo dico in cinese auguri auguri però una cosa che finisce lì non stressatemi ok un bel messaggio felice e positivo prenatalizio grazie a tutti